Nel cyberbullismo il ruolo degli altri è fondamentale. C'è sempre qualcuno che inizia con la prima presa in giro, con il primo insulto, ma è la presenza e la partecipazione degli altri. Ecco, quello è l'elemento che in qualche modo riconferma il bulo che è sulla strada giusta. Abbiamo iniziato a mandarle messaggi con insulti sempre più cattivi, perché mi annoiavo. La vittima sente spesso di non poter reagire. Scrivere su un social qualcosa di sbagliato su qualcuno equivale sostanzialmente a scriverlo su un muro. Questi ragazzi sentono di non poter chiedere aiuto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!